Sono ormai oltre un milione le donne straniere che lavorano nelle nostre case. A loro la provincia di Roma dedica la mostra itinerante Tate, Colfe e Badanti, così vicine, così lontane. 130 documenti tra diari, lettere, romanzi e foto per scoprire e avvicinarsi un po' di più al loro mondo. Fino al 23 maggio la mostra sarà ospitata dalla biblioteca civica di Tivoli, ma dopo l'estate toccherà anche Anzio, Bracciano, Fiumicino, Ladispoli e Zagarolo. Questa mostra è un atto di riconoscenza verso quelle donne a cui affidiamo i nostri figli, gli anziani e i disabili, spiega l'assessore alla cultura Cecilia Delia. Inizia questo viaggio oggi nel comune di Tivoli ed è un percorso di libri, di video, di giornali sulla presenza delle badanti, sono i loro diari ma anche agende, manuali, proprio per dare riconoscimento a una quotidianità delle famiglie italiane che regge anche grazie al lavoro di queste donne, che ci garantiscono un lavoro di cura per i nostri bambini, per i nostri anziani, che sono un pezzo ormai importantissimo della nostra vita quotidiana.